Ciao, ben ritrovata o benvenuta sul mio canale. Oggi ti propongo un make up occhi firmato Pat McGrath, è un regalo graditissimo di compleanno. Parto subito diciamo con una base già fatta, troverai il video linkato proprio giù nell'info box e qui ti mostro come appunto ho realizzato il trucco occhi e le labbra e ho completato anche la parte viso. Quindi direi di iniziare subito. Quindi ho preso come primissimo colore questo color borgogna, bellissimo, molto intenso. Ho preso un pennello, questo è di Essence, te lo straconsiglio, perfetto. Ha questo assetto, lingua di gatto, sono molto fitte e permette di concentrare gran parte di pigmento. Quindi vado a creare il mio solito alosmoky, quindi concentro l'ombretto nelle due estremità, all'interno e all'esterno. Come puoi vedere inizio già a dare anche una forma nella parte esterna. In questo caso ho deciso di allungare un pochino l'occhio, fare un po' questo effetto gatta intenso e quindi in questo modo. Picchietto e sfumo contemporaneamente. Lo stesso ombretto poi con un pennello più piccolo di precisione. Questo è di MAC. Vado a metterlo anche nella rima inferiore esterna. Prendo poi il 217 di MAC e vado a sfumare nella mia piega. Quindi prima sfumo la quantità di ombretto che già ho, poi vado piano piano a prendere un po' di ombretto e vado a sfumare. Continuo a sfumare, sfumare e sfumare. Avanti e indietro con movimenti circolari in questo modo. Ho deciso poi di prendere l'altro colore che è un bronzo scuro, molto bello, sempre col 217. Vado un po' sopra il borgogna e diciamo poi vado a miscelarli insieme in questo modo, sempre con i soliti passaggi. E ovviamente vado a riportare gli stessi colori anche sotto con un pennello un pochino più stretto e più da precisione. Come vedi appunto vado con un pennello un po' più piccolo, un po' più da precisione. Vado a portare il colore anche nella parte inferiore esterna e continuo a sfumare. E' il momento del colore bellissimo. Allora questo colore è un colore particolare, sembra un azzurro ma a seconda della luce che lo colpisce diventa un bellissimo color lilla, violetto, è stupendo, è veramente bellissimo. Wow! Le mie facce si commentano da sole. Quindi vado prima con il polpastrello, perché secondo me l'applicazione migliore. Poi sono andata con un pennellino piccolo de precisione e ho cercato di unire i due colori in modo da non avere stacchi, così come stai vedendo. Poi ho bagnato il pennello e ho provato ad intensificare un attimino di più il colore, che già è bellissimo così, ma devo dire che è venuto fuori ancora di più. Pennello piatto, la lingua di gatto. Ho portato con un pennello piccolo da precisione anche lo stesso colore, anche sotto nella rima inferiore. Punto luce con questo colore stupendo, all'angolo interno, con un pennellino piccolo a penna. Ho utilizzato questo di Mulac, è ottimo, uno tra i miei preferiti e l'ho messo anche sotto l'arcata sopraccigliare, in questo modo, per illuminare. Matita nera, ho utilizzato il Kajal di Mulac, l'ultimo uscito, con la collezione ultima punto uscita. Rima interna e poi anche un po' sopra e all'interno della rima superiore. Giusto un pelo, un attimo, così come stai vedendo. Ho applicato il mascara e questo è il risultato finale. Passo poi a completare il look con la matita labbra, questa è di Dolce Gabbana, ti lascio ovviamente scritto tutto giù. E il rossetto, anche lui ti lascio scritto il nome, perché al momento non lo ricordo, sicuramente un nome particolare. Guarda che meraviglia, un color nude, bello scuro, velluto sulle labbra. Quindi contorno e riempio con la matita e sfumo ovviamente la matita. E poi vado con il rossetto, che ti dicevo è un matte ultra confortevole, sembra di avere velluto sulle labbra. Adoro, mi piace tantissimo. Ecco qua, questo è il mio look terminato. Grazie per avermi ascoltato, per avermi seguito. Fammi sapere se questo look ti piace. Se hai qualsiasi domanda fammela, non ti preoccupare, ti rispondo molto volentieri e se ti va ti aspetto al prossimo video. Un bacione!